E' un episodio grave ma Pavia non è questa. È la posizione del sindaco del capoluogo Fabrizio Fracassi a pochi giorni di distanza dal violento pestaggio del ragazzo di 14 anni in centro storico. Un caso che è diventato di carattere nazionale l'ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi che racchiude dinamiche ormai sempre più frequenti. E' chiaro un brutto episodio che è da condannare, non vogliamo che questi epidosi si ripetano ed è chiaro anche che c'è piena solidarietà nei confronti a un abbraccio, nei confronti del ragazzo e nei confronti della famiglia tutta. Non sono belle cose, case di bullismo e così via. Io non riesco a entrare più nel merito anche perché c'è un'indagine in corso, stiamo parlando di minorenni, la fascia d'età che dicono è dai 12 ai 16 anni, quindi ci vuole una determinata sensibilità. Non sono belle cose, però non siamo naturalmente a un livello di esagerazione così come hanno portato al discorso a livello nazionale. Noi collaboriamo con le forze dell'ordine per quanto di competenza e facciamo una serie di incontri nell'ambito delle scuole per andare contro il bullismo insieme a una serie di associazioni che sono preparate e organizzate professionalmente per quanto riguarda questa tematica. Per fracassi bisogna continuare a lavorare nelle scuole come il Comune sta già facendo per prevenire i casi di bullismo. Faremo tutto il possibile, ha concluso il Sindaco, perché episodi di questo tipo non si ripetano. Siccome qualcuno ha anche detto ma forse è un caso raziale, no non parliamo di un caso raziale perché sto alle parole perlomeno scritte dalla stampa dove il papà stesso dice c'era uno straniero e c'erano due italiani che hanno riconosciuto, pare, però io non so naturalmente nient'altro, però non ne enfatizziamo più di tanto, però è chiaro anche che dobbiamo lavorare proprio in funzione, di evitare che questi episodi si possano ripetere nell'ambito delle scuole, nell'ambito naturalmente della città tutta.